Governatore Fredigan 2025 che si presenta, diciamo sensazionale, oltre a Go25, la grande mostra di Villemanin e il grandissimo spettacolo del Cirque du Soleil, a cui si aggiungeranno molti altri eventi che stiamo costruendo sempre in vista di Gorizia 2025 ma che condurgeranno tutta la regione. Questo è un esempio, il Cirque du Soleil a Trieste rappresenta ovviamente un evento di carattere internazionale, siamo l'unica nuova tappa internazionale inserita nel Tour 2025, solo due tappe italiane che sono Milano e Roma e poi c'era Trieste, quindi diventiamo veramente centrali ed esclusivi per chi vorrà vedere uno spettacolo straordinario come quello del Cirque du Soleil.